E di due feriti il bilancio dello scontro frontale tra due autovetture avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale Brucoli Augusta. La conducente di una Fiat Panda è infatti una 85enne per cause ancora in vie di accertamento da parte della Polizia Municipale di Augusta si è scontrata frontalmente con un'altra autovettura. La peggio è toccata ai due conducenti che per le cure del caso sono stati trasportati dal personale del 118 all'ospedale di Augusta. Il traffico veicolare ha subito un notevole rallentamento nei due sensi di marcia.